Si è chiuso nel silenzio Giovanni Greco, il 42enne butta fuori pescarese che mercoledì mattina ha ucciso a coltellate Giandomenico Orlando, 67enne pasticcere titolare assieme al figlio dell'omonima pasticceria di Via Puccini a Pescara. Questa mattina durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Castrogno a Teramo, Greco ha ribadito la sua volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del GIP del Tribunale di Teramo, così come aveva fatto mercoledì pomeriggio quando era stato fermato dai carabinieri di Pineto che lo hanno trovato su una panchina nei pressi della stazione ferroviaria dopo otto ore di fuga e di caccia al killer. Dunque Greco non parla, anche se prima dell'arrivo del suo legale Paolo Marino nella caserma di Pineto il giorno del fermo, l'uomo aveva indicato agli investigatori il luogo dove trovare l'arma del delitto e quello in cui aveva abbandonato la minicooper con la quale si era allontanato dal laboratorio di pasticceria degli Orlando di Via Buozzi, che è proprio sotto l'abitazione nella quale Greco vive con la madre. L'autopsia effettuata ieri pomeriggio a Pescara dal medico legale Cristian Dovidio è durata 5 ore, ha fornito altri elementi utili agli uomini della squadra mobile volante della polizia di Pescara, diretti rispettivamente da Pierfrancesco Muriana e Dante Cosentino. Orlando è morto a causa delle quattro coltellate inferte gli alle spalle dal suo aggressore, che hanno provocato un emopneumotorace massivo. Nelle mani degli investigatori e del PM della procura di Pescara a Rosangela Di Stefano, titolare dell'inchiesta, ci sono anche le testimonianze di quanti raccontano della personalità aggressiva e violenta di Giovanni Greco, più volte protagonista di risse scazzottate, oltre al provvedimento di ammonimento del questore di Pescara Paolo Passamonti e alle tre richieste di misura cautelare avanzate dalla questura alla procura a seguito delle denunce della famiglia Orlando che si sentiva minacciata dall'uomo. Stando al racconto del figlio di Gian Domenico Orlando, Alessio, a quella famiglia di pasticceri, Greco l'avrebbe giurata, perché stanco dei rumori provenienti dal loro laboratorio. Ed è proprio su questo ultimo punto che nelle ultime ore si sta interrogando l'opinione pubblica. La morte di Gian Domenico Orlando poteva essere evitata?